Ogni anno, questo è il sesto anno consecutivo che grazie all'amministrazione comunale, al sindaco tutta diciamo che siamo presenti a scopo gratuito qui per il sesto anno consecutivo Una devozione alla Madonna Sì, questa è una devozione alla Madonna che sta continuando in anno e diciamo che ogni anno abbiamo un gran successo soprattutto di pubblico tanta gente che viene a fare foto e quant'altro e diciamo per noi è una cosa che soprattutto per me, per il Club Italia a livello nazionale è una manifestazione importante La presenza di amici siciliani che sono venuti da Milazzo qui per dare omaggio a questa manifestazione, per dare omaggio alla Madonna e diciamo che ogni anno io sono veramente contento di questa bellissima iniziativa che facciamo assieme al comune, grazie al comune che ci dà e al sindaco che ci dà il patrocino e l'autorizzazione di svolgere questa manifestazione qui a Piazza Duomo